Sulla crafting table di mi piace ragazzi, oggi esce questo nuovo video della Big Vanilla A un orario un po' diverso dal solito come notate ragazzi Perché oggi alle 6 ci sarà l'evento della Big Guerra Che tutti quanti noi stiamo aspettando Quindi ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio appunto della Big Vanilla Mi raccomando ragazzi, lasciate un bel mi piace eh Vi osservo col canocchiale perché oggi dobbiamo vincere la Big Guerra all'interno della Big Vanilla di Minecraft E finalmente ho tutti quanti gli attrezzi, tutti quanti gli oggetti pronti da regalare al mio regno Il Big Generale ragazzi, buon The Mark, ha finito i lavori Ragazzi sono state praticamente una settimana di farming totale Tra livelli, tra armature, tra minerali, materiali, pozioni Quindi in questo momento ragazzi vi mostrerò cosa ho preparato Quante robe ho preparato credo di ne aver mai craftato così tanti oggetti, così tante armature Così tante pozioni nella mia vita E volevo far sì che il regno fosse super iper mega pronto per questa battaglia E le ultime cose da enchantare sono questa ascia qua di nederite E questo piccone di nederite ragazzi Perché mi serviranno magari durante la guerra Magari voglio un'ascia che mi faccia tantissimo danno appunto durante la battaglia Ho bisogno di un piccone per scavare i blocchi Quindi non si sa mai ragazzi cosa ci possono servire gli oggetti di Minecraft E a questo punto con gli ultimi 30 livelli che mi sono rimasti Perché poi non voglio più farmare nient'altro Non ho proprio voglia di fare nient'altro Per un bel po' di tempo probabilmente Voglio far sì che ragazzi tutto quanto comunque sia letteralmente perfetto Quindi vi faccio vedere la caserma ragazzi di Kendal Che è ormai diventata la caserma di tutti quanti Ed è un laboratorio pieno zeppo di oggetti Qua dentro ragazzi come vi ho presentato Vi ho messo tutti quanti i letti dove dormiranno tutti quanti i nostri amici Per settare il loro spawn Così nel momento nel caso loro morisse Si trovano direttamente all'interno della caserma E io oggi ragazzi vi presenterò appunto il nostro piano di battaglia Per l'evento delle 6 di oggi della Big Guerra Vi mostrerò tutte quante le cose che sono pronte Allora ragazzi per esempio tutte quante cose c'è qua Sono piene di oggetti molto utili per noi per la battaglia Qua dentro abbiamo un set di spade di diamante super OP Non è in realtà super OP Sono spade di diamante basic Che non sono state inciantate Perché queste saranno proprio l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo utilizzo Nel caso proprio finissimo tutti quanti gli oggetti Per esempio qua abbiamo altri diamanti Altre armature veloci Ma in realtà è niente di che Perché la cosa più importante ragazzi Non è neanche qua dentro Qua abbiamo un set di mene d'oro Pronte per ogni persona ragazzi Più un set da 13 Nell'eventuale caso qualcuno morisse Abbiamo anche un po' di stack di lapis 5 pezzi di nederite Nel caso qualcuno morisse appunto Volesse comunque trasformarsi qualche oggetto in nederite Un po' di ferro per creare nuove anvil E degli spyglass craftati appunto Perché secondo me durante la guerra Le spyglass saranno veramente super super utili Appunto per sbirciare se qualcuno sta facendo una battaglia E ha bisogno di una mano Poi dove andiamo ragazzi Qua in alto abbiamo dei set di armature in diamante Che ci serviranno appunto dopo le nostre morti Ma in realtà questi set qui sono proprio gli ultimi set Che dovremmo raccogliere nel caso se appunto ci servisse qualcosa Perché ragazzi in realtà io qua dentro ho preparato Dei set in diamante Enchantati Che appunto serviranno Dopo le prime morti Questi sono dei set veramente molto molto forti Sono un po' tutti quanti randomici Perché ho farmato tanti di quei livelli ragazzi Che mi mettevo direttamente qua nella crafting Mettevo un oggetto e facevo subito L'enchant di livello 3 E facendo così ragazzi Io sbloccavo tantissimi enchant Che magari erano doppi Magari erano tripli come questo è il metto E diciamo che ad alcune cose mi è andata bene Altre cose no Per esempio questa spada qui mi è uscita con sharpness 2 Magari per esempio questa mi è uscita con sharpness 4 Unbreaking 3 Diciamo che andavo un pochino a fortuna Però volevo preparare comunque tanti oggetti inchantati Appunto perché nel momento in cui magari io morissi E iniziasse a perdere per esempio Questa armatura qua di nederite Più i miei terzi nederite Comunque diciamo che volevo che il regno fosse comunque coperto E volevo che comunque tutti quanti potessero fare magari una doppia Una terza battaglia Nel caso morissero Quindi secondo me ci sta veramente un sacco Poi qua sopra se non mi sbaglio Questi ciascchi sono completamente vuote E in più come notate all'interno del mio inventario ragazzi Abbiamo ben 3 set di armatura di nederite Che non sono la mia ragazzi Perché questa qui per esempio è la mia Però 1, 2, 3 Sono 3 set di nederite Questo set di nederite ragazzi sarà direttamente per francicoso È un set con Elmetto Protection 3 Respiration 3 Unbreaking 3 Poi abbiamo Thorns E la Chespit Solo un Protection 3 E la Chespit ragazzi Però purtroppo come vi ho già detto Dovevo far stare tantissime incianta Tantissime persone Più le cose di riserva Quindi non ce la facevo a fare tutto per tutti Poi Qua abbiamo un bel Feather Falling 3 Però che non è per niente male Questa sarà quella di Nico Che non ha Feather Falling nei piedini Ma la Death Stranding 3 Protection 4 E ha anche Protection 4 sulla Chespit Che non è per niente male E anche sull'elmetto Ottimo Invece questa ragazza è l'armatura di Steffo Che secondo me è la più forte Insieme alla mia All'interno del regno Avevo fatto anche insieme a Kendal In un suo video D'armatura per Kendal E Marci ha anche coperto Molto molto bene A livello di armature Quindi per ora Ragazzi Tecnicamente tutti quanti Abbiamo un set di armature In nederite Super OP Compresa la Regina Fere Comunque come notate Anche la Chespit di Steffo È veramente molto molto più Perché per esempio Protection 4 Thorns 2 Unbreaking 3 Qua abbiamo un Protection 4 Dei Gambali Qua abbiamo un Federal Falling 4 Protection 3 Anche la Testolina ragazzi È veramente tanta tanta roba Qua dentro io ho un set di diamante Che però non ho più Praticamente libelli per inciantare Quindi lo lascio direttamente qua dentro E nel caso qualcuno gli servisse Lo potrà fare lui Abbiamo poi Questo qua ve l'ho già fatto vedere Questi qui ragazzi Sono tutti quanti i set Che appunto vi ho già mostrato Quindi questo lato qua Praticamente già tutto quanto visto Tranne questa cassa qui Che è la cassa dove ci sono Tutti quanti i bucket di lava e di acqua Che ci serviranno appunto Magari durante la battaglia E qua dentro abbiamo il set Invece delle armi Manca un arco Ma perché semplicemente Già ce l'ho io nel mio inventario E questo qui è il mio arco ufficiale Unbreaking 3 Power 3 Infinity Punch 1 E Flame Voi mi direte Marco potete mettere un Power 4 Queste cose È vero Ma vi ripeto ragazzi Sono tutti quanti archi calcolati Per far sì che a tutti quanti Avessimo più o meno Un bilanciamento All'interno della battaglia Quindi ci sono tanti archi Che magari hanno un Power 5 Un Power 4 Questo ha un Power 3 Power 3 Quindi diciamo che sono un po' Tutti quanti Un po' diversi dall'altro Ma sono un po' bilanciati Tanti Flint and Steel Altri bucket di lava E qua abbiamo tutte quante le armi Che utilizzerà il regno Per la prima battaglia Abbiamo anche un Asha Che toglie 13 di attack damage Ragazzi Veramente tanta 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 roba Appunto come vi dicevo Questa parete qui ragazzi Ve l'ho già mostrata Qua abbiamo altre pozioni Abbiamo delle pozioni strength Da 8 minuti Ne abbiamo un bel po' in realtà Queste qua sono da 3 Ma sono splash potion Qua ne abbiamo un'altra da 8 Ma in realtà ragazzi Tutta quanta la parete È ben fornita Di pozioni Qua abbiamo pozioni di misibilità Nel caso qualcuno volesse provare A fare una missione E tentare un attacco Magari invisibile Ragazzi lo può fare Però per esempio Qua abbiamo delle splash Potion di weakness Quindi di debolezza Queste pozioni qui Saranno veramente molto utili Per abbassare magari Gli attacchi delle altre persone Quindi ne ho fatte praticamente Due casse intere Ragazzi Tanta tanta roba Poi abbiamo altre pozioni Di invisibilità Abbiamo altre pozioni Di strength 2 Che sono veramente tante Ragazzi Tutte quante da un minuto e mezzo Poi qua ne abbiamo altre Da un minuto e mezzo Sempre di strength 2 Invece da questo lato Abbiamo tutte quelle Da 8 minuti Ragazzi Ottimo Perché sono veramente tantissime Ma diciamo che le ho volute farmare Perché queste faranno Secondo me la differenza Quindi queste casse qui Saranno da strength 2 Poi se non mi sbaglio Qua da qualche parte Abbiamo comunque altri set Un pochino sparsi Quella Qua abbiamo gli ultimi libri Inciantati Che ci sono rimasti Qua abbiamo tutti quanti Gli stack di frecce E questi serviranno appunto Nel caso qualcuno Non avesse infiniti All'interno dell'arco Perché non tutti quanti gli archi Che abbiamo craftato Hanno infiniti Questo si Questo no Come notate Questo neanche Questo neanche Diciamo che ci sono solo due archi Con infiniti ragazzi Uno ne ho io E uno è all'interno appunto Della cassa Comunque secondo me Ci può stare ragazzi Qua abbiamo appunto queste cose E qua abbiamo anche Tutti quanti i vari shield Enchantati Per esempio ne abbiamo Alcuni da unbreaking 2 Altri con unbreaking 3 E altri senza enchant Perché avevo appunto Finito gli unbreaking E tutti quanti gli unbreaking Che si potevano unire E secondo me Anche questa cosa qua Ci può stare Qua abbiamo un axolot Che sarà un pochino Il nostro portafortuna Altri diamanti Altri cosi Quasi cosi Io prendo questi diamanti E li metto direttamente All'interno di questa cassa Perché non li ho presi? Perché the marker È stato poco furbo Non li ha presi Prendiamoli e mettiamo via Ok Quindi direi Qua ragazzi Siamo tutti quanti pronti Abbiamo preparato Tutte quante le cose per bene Tutte quante calcolate Al minimo dettaglio Quindi spero Che possano bastare Per tutti quanti i miei amici Poi ovviamente Anche loro hanno sempre Con loro qualche oggetto importante Dicevo Qua controlliamo Perché io devo finire Di enchantare Quindi la mia ascia personale E quasi quasi L'ho tento Questo unbreaking 3 finale Vediamo qua sul piccone Lo faccio sull'ascia Dai perché magari Ci può servire anche Durante la battaglia Vediamo Fortuna 3 Efficienza 4 Unbreaking 3 Tanta tanta roba Poi andiamo sul piccone Cavolo ci usciva Con un'efficienza 4 Qua dannazione Fa niente Allora facciamo così Vediamo se Il piccone Ci c'è Facciamo così Facciamo così Vediamo se c'è appunto Un'efficienza da qualche parte Qua dentro Magari una buona alta Efficienza di un bel livello Efficienza 1 No è un po' pochino Efficienza Efficienza 1 Un altro Qua c'è un'efficienza 4 Piercing 4 Questo lo posso unire Eccolo qua L'efficienza 4 Che cercavo E vediamo 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 Non ho più unbreaking ragazzi L'ho completamente finito tutti quanti Quindi qua ci può uscire un unbreaking No Vabbè Non c'è un unbreaking Allora facciamo così E mettiamo un'efficienza 4 In realtà Quindi non so perché Io abbia sprecato altri livelli Ma comunque li ho sprecati Ormai fa niente Vabbè Allora Efficienza 4 Su un piccone ragazzi Comunque di nederite secondo me Diciamo che può bastarmi Per tutta quanta la guerra E più di questo ragazzi Secondo me Io non potevo fare Sicuramente Franci e Nico Hanno altre mele d'oro Queste sono tutte quante quelle Che ho preparato io Quindi tanta tanta roba Come vi dicevo Abbiamo altri lingotti Perché nel caso qualcuno Poi volesse prendersi Un'armatura O una spada E metterla poi Con un lingotto di nederite E andare in guerra Comunque con una spada Nel caso fosse morto Secondo me Era l'opzione E la scelta migliore appunto Per fare la guerra Al miglior modo possibile Dovrò ricordare a tutti quanti Altri ragazzi Di mettere qua Il loro spawn Di settare qua Il loro spawn Le envil sono tutte quante pronte Perché ne abbiamo tre Da utilizzare In più abbiamo altro ferro Direi quasi quasi Ci craftiamo un'altra envil Da tenere all'interno Delle chest qua in giro Quindi facciamo così Altri blocchi qua di ferro Uno due tre E ci facciamo qua Altre envil Quindi qua E ne facciamo un'altra Vabbè dai Ragazzi già che ci siamo Ormai possiamo fare un'altra E direi facciamocene un'altra Dai uno due e tre E facciamo due envil di riserva Da lasciare all'interno Di questa cassa qui Ok ragazzi Io direi che siamo Tutti quanti pronti Mi raccomando Vi ricordo che la live Sarà alle 6 Nel canale che poi più avanti Troverete o in descrizione O nei commenti È una cosa molto importante Venite a trovarci tutti quanti Su quel sito bellissimo Che vi piacciono Delle live E noi ragazzi Ci vediamo In un prossimo video Forza Regno della big regina Fere Vedremo Cosa ci porterà In futuro della big vanilla Da Marche è tutto ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi Attirate la campanella Scegliete uno Dei due video qua davanti E non so se stasera Uscirà un altro video Dalle 7.30 Vedremo ragazzi Da Marche è tutto Iscrivetevi Attivate la campanellina Ciao ciao